Un buongiorno di potenza a tutti voi signore e signori, io sono Mike senza nome e questo è probabilmente uno dei titoli più potenti di questo mese di ottobre, sì perché sembra che siamo a ottobre ancora Ovviamente io vi do il benvenuto a una nuova piccola super serie, dipenderà moltissimo dai mi piace, da quanto lo guardate, da quanto vi piace, da quanto mi piace, vi piace, ci piace, insomma piace a tutti E ovviamente ho chiesto a qualcuno di voi sulla scheda community perché vedete voi su youtube c'è una scheda community, la vedete sia da computer che da mobile Vabbè lasciamo perdere questi dettagli e niente, lì avevo chiesto da un'immagine di dirmi che gioco era perché ne avevo già parlato precedentemente nel video a fine mese E se non siete stati attenti, se non siete attenti, mamma mia, un 4 in condotta ragazzi vi do, un 4 in condotta, vabbè A prescindere da questo, verrebbe fuori, alcuni di voi mi hanno risposto che questi sono i 7 nani meno uno Oppure Mau Mau voglio le crocchette, oppure Super Mario New Edition, ma Super Mario New Edition, cosa? No, è Little Big Workshop, e io sono mai senza nome E questo è, che cos'è ovviamente, sì andiamo a vedere che cos'è Little Big Workshop, il grande piccolo laboratorio signori È un titolo gestionale, estremamente potente e completamente in italiano Io sono ovviamente il buon caro Mike, se vi piace questo video, beh ve l'ho già detto cosa dovete fare Se volete invece seguire le live, venite su Twitch, boys, Twitch, qua sotto vedete il link su Twitch È gratuito, non dovete fare altro che registrarvi alla piattaforma per poter parlare col buon caro Mike E poi potete mettere un cuoricino, seguirmi e sapete sempre quando sono online Quando vado in live, bam, vi arriva una notifica, perché a differenza di YouTube Su Twitch arrivano le notifiche, e quindi, nuova partita Il nome della fabbrica, ma io, la, la, fabbrica di, ah devo dare, cioè proprio, è un nome unico Devo pensarci allora Abbiamo dato un nome alla fabbrica, e si chiamerà potenza pura Perché ci piace la potenza pura, quella da sniffare ogni inizio di giornata E quindi, siamo pronti, Mirage Game Studios presenta Prese, oh guardate che bello, che bello, io ho già un po' una, una ciccellina di idea Mi sono fatto, non ho giocato assolutamente niente E questo è l'episodio pilota, sapete, quel pilota lì, bene Come, come Mike su Grids, dopo aver fondato Mastropio, aver finito la serie di Mastropio Oh guarda, sono arrivati gli omuncoli, bene Allora, squilla il telefono, rispondiamo al telefono E là, ho appena aperto un nuovo negozio vicino alla tua fabbrica E dato che sei nuovo, pensavo che potremmo aiutarci a vicenda Che ne dici? Procurati un banco da lavoro e preparati Va bene, prima postazione Banco da lavoro, postazione in legno Ok, prestazioni per il legno Dove la mettiamo? Inizierei da quest'angolino buio qua Sapete, bisognerebbe cercare di organizzare tutto al meglio Rumore, meno 5, comodità 0 Va benissimo così Ordina Le postazioni di lavoro arrivate richiedono tempo per essere consegnate e installate Questo titolo è estremamente potente Uscirà ovviamente su Steam Uscirà ovviamente Oh guarda Ciao Arrivato il trasportatore Arrivato il trasportatore, ci porta la roba Dai, un po' più in fretta però Ok, molla lì E adesso arrivano i miei lavoratori E giustamente Tac, postazione di lavoro Ancora lì, ancora il telefono Ancora il telefono Pronto Vedo che è un banco di lavoro Il mio stock di gnomida giardino sta per esaurirsi Puoi realizzarne qualcun altro? Va bene Allora pianificiamo la realizzazione di questo prodotto È un po' inciuciata la questione che La telecamera non si può girare liberamente Ma si può girare solo dove vuole lui Pianifichiamo il prodotto Questa è un modello di pianificazione fondamentale Per progettare e organizzare nei minimi dettagli La realizzazione dei doni è un po' un satisfactory Signore, è un satisfactory gestionale molto bello Allora, i nodi quadrati come questi rappresentano prodotti a parti Un miliassi di legno che poi trasformiamo in sotto unità più complesse I nodi circolari come questi rappresentano operazioni Azioni compiute dai lavoratori alle varie postazioni E poi in Italian, capito? Quindi questo è il prodotto finale creando le secondole specifiche Ottimo Andiamo sul nodo e dobbiamo collegarci una macchina E quindi diremo Usa quella macchina Pronto per la produzione Esegui Fast Ovviamente adesso devono arrivare dei materiali per lavorare Dobbiamo ovviamente assegnare delle zone di carico e scarico Che per non sapere di scrivere faremo qua Che sapete insomma Tac Possiamo farlo anche a tutto il muro così Però è un po' tanto Facciamo all'inizio una zona così Quindi posso seguire i miei progressi là Una volta che abbiamo fatto la zona di scarico Carico Possiamo vedere che adesso ci porta i materiali Ce li mette là Mentre Mentre Abbiamo il nostro carissimo lavoratore che porta il tronchetto E lavora Lavora Almeno qualcuno che lavora a ste parti E poi BAM Eccolo là Gnovo da giardino Ciao bello Ciao Si salutano anche Ciao Uno due E ci manca il terzo Avanti con la produzione E si parte quindi dal basso Fino a quando Costruiremo una fabbrica Mega impianto Consegna i prodotti finali Via Arriva il camion che sta prendendo I gnovi da giardino Eccolo qua Ok Hanno anche delle skin diverse E' carissimo Carinissimo Bellissimo Lo aiutiamo a caricare E via per favore E' appena arrivato il carico di gnomo di legno Ah no Un aspetto fantastico La gente ne va già pazza Spero che faremo altri affari insieme in futuro Ok Vediamo il mio riepilogo finanziario Importo stimato Stima costo ai materiali Stima pagamenti ricevuti Operatori Super trasportatori Tecnici Affitto Nuovo inventario Pagamenti ricevuti Beh siamo in verde Ok Al termine di questa introduzione I lavoratori dovranno essere pagati Per le loro prestazioni Mannaggia Pure quelli bisogna pagare Eh no eh Facciamo una cosa più All'italiana per favore Cosa c'è ancora I gnovi sono spettacolari Mi piacerebbe venderne Degli altri Puoi farmi degli scaffali Subito Iniziamo con gli scaffali boys Allora Gli attributi indicano la qualità Del tuo prodotto Ah ah Il contratto Aderequisiti per gli attributi Fantastico Gli attributi sono determinati Dalle parti dei materiali usati Quindi Le scelte con lo sfondo rosso Sono impossibili da soddisfare Alle configurazioni attuali Seleziona elementi diversi All'interno del piano Quindi possiamo anche Personalizzare gli oggetti Che creiamo È favolosa come cosa Quindi bisogna fare Un taglio Dell'asse E dopo viene fuori Questa cosa E poi facciamo un taglio A zig zag E facciamo la forma Eh Capite Selezione materiale Con cui realizzare Questo prodotto Che è praticamente L'asse E basta Legno grezzo Oppure il legno scuro Il legno scuro Costa di più Ma vedete che hanno anche Come dire Materiali diversi 2.10 2.10 Ok Roba semplice Civile Perfetto Dobbiamo solo Attribuire i banchi di lavoro Quindi tutti si occuperanno Di fare i tagli a zig zag Dovremmo ovviamente Espandere l'azienda E Cosa abbiamo fuori Non possiamo fare L'operazione di assemblaggio E quindi che devo fare Usciamo da qua E andiamo a prendere Una postazione di assemblaggio Sembra ovvio E era evidente La mettiamo qua Ovviamente Dobbiamo fa passare il tempo Ordina Torniamo alla modalità Di pianificazione Quindi Questo si occuperà Dell'assemblaggio E facciamo Eseguire anche questa Madonnina Bello Avanti Avanti popolo Adesso possiamo vedere Che abbiamo costruito I cubettoni cubettosi Quindi sta praticamente Facendo i tagli Per arrotondarli No E una volta che avremo Praticamente Le assi E anche I supporti Praticamente Per le mensole Metteremo insieme Il tutto Ed eccoli qua E lui praticamente Si occupa dell'assemblaggio Capito Ovviamente Se io avessi più tavoli Di questi Di banchi da lavoro Potrei fare le cose In maniera più potente Ma al momento Al momento Siamo bloccati Nei limiti del tutorial Ovviamente La potenza In questo giochetto È più o meno Qua sopra Anzi Tra un po' Esce attraverso il soffitto Quindi Nel frattempo Abbiamo fatto Una bella cucina Dove L'omuncolo Si può Riposare Non vedo letti O altro Ma ci sono decorazioni E altre cose Interessanti E quindi Adesso tra poco Tra poco Spero che il tutorial Ci dia Campo libero Consegna Via Il camion in arrivo Carichiamo tutto È appena arrivato Il carico di scaffale Mamma mia Un aspetto fantastico La gente ne va già pazza Cosa c'è ancora Usa il mercato Per trovare Nuovi lavori Wow Aspetta Scegli il contratto Offerta sulla sinistra Per mostrare ulteriori informazioni Tavolo quadrato Sedia semplice Fantastico Quindi abbiamo Vari oggetti Da produrre È bellissimo Questo è il mercato generico I prodotti qui mostrati Sono sempre molto richiesti E rappresentano quindi Una fonte stabile Di guadagno Imposta la quantità Obiettivo a prodotti A sette Vogliamo produrare sette A quanto pare Quindi materiali Stipendi Pagamento e profitto Ok Interessante Cos'è questo? Tempo di operazione Tempo di lavoro Operazioni 18 Consegnabile 65 65 Assembla sette Taglia dritto Dettaglio semplice Quindi vediamo Tutto quello che c'è E decorazione Sopra Fantastico Non so perché c'è un cestino Ma va bene Fa stesso Esegui Clicca nel pulsante destro Sua postazione di lavoro Per esaminarla Questo lavoro Ti richiederà parecchio tempo Per essere completato Ok Abbastanza chiaro 6 operazioni di assemblaggio Quindi Il camion è arrivato Da piattaforma di carico Ok Cosa vuoi dammi Postazione di assemblaggio Ne vuoi un'altra? Eccole qua Una accanto all'altra Maniera virile Ordinala Chevo il pulsante destro Sulla postazione di lavoro Per esaminarla Quindi Dividi Wow Divido Aha Eccola qua In due attività Trasferisce uno degli incarichi Più urgenti Sua nuova postazione E premiamo qua E mettiamo lì E sono due postazioni Di assemblaggio Wow Assumi qualche lavoratore Abbiamo Ugo Ugo Galfano E Claudio D'Agostino E assumiamo anche Chi? Dario Ravelli Ruolo operatore Giorno in carriera 3 minuti 47 ore Gli altri Porca miseria Ugo Ugo Galfano Per favore Datti una mossa Completa il progetto Ok Ci pensa Mike Pronto Chi è Madonna Santa Sto telefono Continua a squillare Che disastro Gli gnomini Che avevi prodotto Sono già andati esauriti Ma ne sono altri Subito A qualsiasi prezzo A qualsiasi prezzo Ci pensa Mike Baby Pianifica prodotto Gnomi in legno Allora Ok Che devo fare Potrei Che Ditaglio Semplici Gnomi 6 Esegui Non mi fa A fare altro Questo è un progetto urgente Che è col suo bussante Prioritare l'interfaccia Per impostare la priorità Ok Eccolo là Prima i gnomi ragazzi Cambiate Cambiate Facciamo questa roba Per favore Adesso siamo Nelle prime fasi Questo è ancora il tutorial Il primo episodio Della serie Di una serie Che sarà secondo me Potentissima Ma dipenderà molto da voi Dipenderà molto da me Dipenderà molto da tanti elementi Come ad esempio Il fatto che Porca miseriaccia Tra un po' Devo andare con la vp Del veterinario E anche con i cani Al veterinario E anche con Dove fare un sacco di cose Ma ovviamente Voi siete qua Per vedere potenza Cosa è successo? Sta per esplodere La spostazione Vero? Lo so Adesso appena finiamo Di lavorare L'asse di legno Dobbiamo assolutamente Ripararla Ok? Riparazione pianificata Ecco Asse in legno Quindi riparazione in corso Perché io sono avanti Consegniamo i nani Al giardino Via Facciamo fare un po' Di soldi a Mike Caricati i nani E vai via Ok? Trasportatore Ho finito Ho finito anche Wow Accedi al mercato Quindi Possiamo venderli Adesso ci va bene Prezzo 462 Consegna Abbiamo consegnato Entrambi gli ordini Sono un E' appena arrivato Il carico di un uomo di legno Un aspetto fantastico Allora Posso tenere d'occhio I rapporti con i clienti Abbiamo dei clienti Stivolo svitato Enterprises Fantastico Già mi piace il tuo nome E' bello Abbiamo Parola economica Ordini piccoli Casuale folle Ci sono anche Svecchia Svecchia Non è Ikea Vero? Fa mobili Grossi ordini No A fine S&Co La Mitsurella E poi abbiamo la Eco Inc Che Fanno robotica Piuttosto che veicoli Sport Esercizio Madonna quante cose Bene Ho visto Gli obiettivi E il mio progresso Ok Quindi completa Ho successo il tutorial Primo traguardo Posso vedere altre meccaniche Nella sezione di aiuto Il mercato Modalità pianificazione Gli impiegati E dobbiamo quindi Con tutte queste cose Fare le zone Gestire i clienti La carriera Concorrenza Addirittura E' un gestionale Fantastico Ricerca e sviluppo In questa sezione Puoi potenziare E migliorare la tua fabbrica I potenziamenti costano Quantità di differenza Di punti di potenziamento La potenza La potenza E' quello che vogliamo Ordiniamo delle nuove cose Vogliamo Espandere la nostra attività Quindi Siamo pronti per iniziare Una grande attività Vediamo la buonità Di pianificazione Quindi cosa abbiamo fatto Abbiamo Selezionato Il taglio a zigzag Allora In teoria Chi si occuperà Di questo Si occuperà Si occuperà La nuova postazione Ok La nuova postazione Si occuperà Di quella Chi si occuperà Di tagliare Queste cose Si occuperà La postazione vecchia Chi si occuperà Invece La postazione Di qua E tutto l'assemblaggio Verrà fatto Dall'ultima postazione Interessante Tutta questa cosa Verrà fuori Con un profitto Di 824 Si per un pezzo Perché noi vogliamo Però farne Vogliamo farne Quanti di questi Bellissimi Cassetti piccoli 10 8500 Di profitto Via Arriva Arriva Iniziamo a lavorare Intensamente Con il nostro Primo progetto Fatto totalmente A caso Però adesso Intanto stiamo Tirando su Delle postazioni Nuove Quindi ecco qua Nuova postazione Di lavoro Un paio di cactus Per aumentare L'umore Immorale Della gente Quindi stiamo Scaricando tutto Nel nostro Bellissimo Deposito Iniziamo a fare Big money Boys Che è quello Si sta ricaricando Potrei forse Anche assumere Qualcun altro Ma è ancora Presto Non me la sento Non me la sento Di assumere Qualcun altro In maniera virile Ordiniamo Queste cose Altre cose estetiche Decoriamo Avvegliamo Il tutto Nel frattempo Ovviamente capite Che è un po' Un po' lentuccio Eccola là Un po' Una lucina Perché ho fatto questo Perché posso andare A vedere Lento effetto Stanza E vedere che Mi carica Veramente di potenza Adesso le cose Visto che insomma È tutto È tutto bello Vediamo L'umore 5 Da questa parte L'umore 0 Qua Vabbè nel deposito Ci sono gli ostacoli Gli ostacoli Rallentano ovviamente I movimenti Le mie personcine Quindi è importante Che non mettiamo Cose lungo Il tragitto Vedete È tutto molto Libero Così E permettiamo Ovviamente La massima potenza Massima velocità Non so esattamente Cosa potremmo fare Ad esempio Vediamo un po' Cartelloni I cartelloni Permettono di collegare Tra di loro Più postazioni di lavoro Per facilitare la gestione Potrai infatti Assegnare incariche A gruppi E non solo individualmente Aha Oppure Miglioriamo la gestione Logistica Della tua fabbrica Grazie a ambienti specializzati Sblocca le zone Di esportazione Le zone per postazioni Di lavoro È interesting Interesting Cos'è questo invece Lavorazione del legno Torni Sega Nastro E macchine Perle Incollatura Ma è bellissimo Materiali Ecosostenibili Renato disponibili Ulteriori opzioni Salvando la vita Un paio di alberi Che non guasta mai Ora intanto Avarchiamo i cartelloni Distribuisce i lavori E le postazioni di lavoro Collegate dello stesso tipo Ok Cosa cacchio vuol dire Scusami Buona pazienza Allora Fammi girare un attimo La visuale Che non capisco più di tanto Sai Sono un po' Un po' Ehm Mercato Qualcosa di nuovo Sfide Chizza biera Ho capito Ma io non ho la plastica Mi dispiace Speed Steve Quello che è Non posso aiutarti Ma posso Invece Cercare di andare A cercare di capire Dove mettere Sto Sto coso Perché sei scivolato Ok Ok Spendiamo soldi Come se non ci fossero domani Vediamo se riusciamo a collegare Le postazioni tra di loro Ok Eccole qua Quindi Il cartellone Voi che non sapete cosa fa Veramente nemmeno io lo so Ma posso collegare questo E questo In maniera che adesso si possono Si possono Dividere i lavori Senza dover gestire In maniera del tutto Autonoma Ma vedete queste cose Che magari uno lavora troppo L'altro lavora troppo poco Io in teoria posso Venire dire direttamente Al cartellone qua Fai quel lavoro Nello specifico E tutto è fatto per Avere un piccolo Satisfactory Che Dobbiamo gestire Ragionare Sistemare Quello che proprio a me Non riesce per niente Avrei detto che non lo faccio In questa Subito prima Così puntata Ma Basta Prendiamolo Assumiamo una nuova persona Mario Visconti Eccolo qua È bellissimo perché Cado giù come pedine Capito Dopo Sono subito pronti a lavorare Spero Allora Ci diamo da fare Ovviamente non è molto Ottimale Ottimizzata Come base Vedete che Diciamo che ci stanno cose Da sistemare Decisamente meglio Però adesso Col fatto che abbiamo Tre personcini Mi aspetto che la produzione Incrementi Siamo al quasi Il 60% Della nostra produzione Di scaffali E Quella che poteva essere Praticamente uno Un lavoro redditizio Ci sta facendo Arrivare Diventa poveri Per poi sperare Di poter vendere Perché effettivamente Sapete cosa conviene Conviene andare Fare piccoli ordini Ma farli veloci Quindi Adesso Quasi quasi Accetto Vediamo il mercato Cosa propone Mercato cosa propone Allora Aspetta c'è C'è uno scaffale grande Un tizio Vuole fare Uno scaffale grande Crea piano Creiamo il piano Cosa vuoi 2.10 Ok 15 più Non so esattamente Cosa vuol dire Legna Questa ci va bene Legna Quella che costa poco Ci va bene Il risultato è 2.10 Quindi Queste due Postazioni Le Attribuiamo lì Questa La attribuiamo lì E questa La attribuiamo A A lei Ok Scafali grandi Ci siamo Ci siamo Quantità 15 Siamo tutti pronti Esegui E ovviamente Adesso gli diamo La precedenza Allo scaffale grande Perché dobbiamo farlo Dentro due giorni E 23 ore Signori Ok Via Abbiamo 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 un nuovo progetto Fast Per favore Nel frattempo Stiamo facendo Di scaffale Cioè I cassetti Per Per i mobiletti Di cui avevamo bisogno Ovviamente sta esplodendo tutto E dobbiamo quindi Riparare Riparare le postazioni Abbastanza fast Ho assunto Una nuova personcina Nella speranza Di poter fare Cash più velocemente Ma qua 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 invece le cose Si rallentano Invece di andare avanti Ok Vedete che siamo Su una scrivania Bellissima È proprio Fantasticherimo Tutto come Come design Come look Come aspetto generico È Un bijou di giochetto Secondo me E Se non avete ancora Giunto la vostra wish list Seguitelo su steam Perché è importante È bellissimo Sono contento Che Tanti di voi Mi malediranno Probabilmente Perché li farò Spendere altri soldi Anche questo mese Ma il mese di ottobre E novembre Saranno pieni Esplosivi Di novità potenti Signori E abbiamo finito Gli scaffali Siamo pronti Per consegnarli E incassare i cash Prima della fine Della giornata Credo Spero Via Via Tutto No Non voglio fare Il kit sabiera Bello Non ho la plastica Ancora Non voglio Lavorarti La sabiera Tu caricati Gli scaffali E vattene via L'acqua Per favore Ok Tra l'altro Vediamo una cosa Interessante Ah Un trasportatore Viene solo 100 euro Al giorno Ok Sono importanti I trasportatori Ma al momento Non ne abbiamo bisogno I trasportatori Ovviamente Trasportano In modo che ci sia Sempre qualcuno Che lavora E qualcuno Che trasporta Quindi La potenza Estrema E' appena arrivato Il carico Di scaffali Grandissimo Bene Bene così Ho raggiunto Il livello 2 Stiglio Svitato Enterprise Anche Siamo soci Adesso Yeah Pagherà di più Si rivolge Molto più spesso A te Per avere i suoi prodotti Ricerca e sviluppo Quindi possiamo Migliorare Le postazioni Di lavoro Oppure Aspettare un ciccinino E andare avanti Nel frattempo I primi cassetti Piccoli Le mensole Capite Iniziamo a renderli Estremi E potenti E funzionali E quindi Eccoli qua Abbiamo un sacco Non so se li vedete Bellissimo Come li vedo io Ma sono lì E sono E pieno di cassetti Eccoli qua I cassetti E poi vengono assemblati A modi a Ikea In poche parole 93% Quasi completato Il grande progetto Che Mike aveva in mente Ma nel frattempo C'è la postazione Che sta ferma Ci va bene qualcosa No Paperelle E no Non possiamo fare Paperelle Scaffale piccolo Non si sa esattamente Da che parte andrà Come va il mercato Però la sedia semplice Sta schizzando Ragazzi La sedia Costerà 4.000 Fa sta roba Allora Vediamo Tutta questa roba La colleghiamo E la assembliamo là Perfetto Tutto verrà assemblato In unica postazione Mentre Tutte queste cose Verranno attribuite lì Verranno attribuite lì In teoria Adesso Avendo dato Tutti questi ordini Al cartellone Tutto verrà gestito In maniera potente Consegnabile 34 Noi vogliamo consegnarli Solo 7 Quindi iniziamo Subito Il progetto Ok Vediamo un attimo Che cosa succede Succede che Come potete vedere Abbiamo tutti gli ordini Che abbiamo appena dato Che sono messi qua Quindi le postazioni Di lavoro collegate Hanno Già delle indicazioni Che gli sono state date Nel frattempo Stiamo finendo Di assemblare Per quello Ci siamo portati avanti Abbiamo già A produrre Qualcos'altro Di estremo Finché stiamo Assemblando Le altre sedie E quindi Facciamo sedie Facciamo mobili Facciamo Facciamo Computer Macchine Chi lo sa Dove ci porterà Il cuore In questa grandissima Produzione Che appunto Richiede tanta pianificazione Ma in questa fase Siamo ancora tutti Molto sciagli E tranquilli Vediamo se riusciamo A consegnare I cassetti Prima di fare Un po' di cash Ok Perché i cash Sono importanti Io non sono molto Expert di cash Sta assemblando L'ultimo Mobiletto Eccolo qua Ultimo mobiletto Portato E accedi al mercato Boy Dove sono i mobiletti La richiesta È un po' scesa Però Però Dovremmo fare 11.000 euro Consegnando sta roba E guardalo là Il level 3 Così al volo Cosa possiamo sbloccare Set di costruzione Cos'è questo Lavorazione del legno Torni Seghe a nastro In macchina Per rincolatura Sì però Io ho bisogno Di uno strumento Di costruzione Per avere Nuovi spazi Dove poter Edificare Quindi Per non sapere Nel gioco e scrivere Possiamo espanderci In maniera brutale Possiamo addirittura Costruire Cosa c'è Pronto Pronto Salve Rappresento Svecchia La società mondiale Produttrice di mobili Svecchia Non è L'IKEA Stiamo cercando Un altro sub fornitore Creiamo Che ti possa fare A caso nostro Ci sono una piccola quantità Di parti di legno Per realizzare Il nostro prodotto Più venduto La libreria Willi Dettagli Scusami Realizza prodotti Scaffale piccolo Cinque giorni Va bene Te lo faccio io Te lo faccio io Ma con questa piccola promessa Signore io direi che Posso concludere Qua quest'episodio Estrema potenza In questo gioco Decisamente Fatemi sapere ovviamente Quello che ne pensate Io sono Mike senza nome E ci vediamo Subitissimamente Con nuovi episodi Ovvio Ovviamente Dalle 14 Easy peasy Mike senza nome Passo e chiudo Ciao Statemi potenti Ok È importante questa Ciao Ciao Ciao